Siamo qui al Partenio, una sala bellissima, straordinaria, che deve rivivere, assolutamente, legata per me a tantissimi ricordi, perché questo è il cinema in cui mi sono innamorata del cinema, la mia prima volta in sala. Penso per tutti i cittadini di Avellino. Assolutamente. Hai un ricordo in particolare? Cioè tipo la tua prima volta? La prima volta è stata venire a vedere Il Re Leone con mia madre e mia sorella nel 94, primissima volta in sala, un'emozione enorme che ancora ricordo. Ricordo anche il riservo nel non voler piangere perché ero con mia madre e mia sorella. Da lì è nata poi una riflessione negli anni a venire, quando ho continuato con immenso amore a condividere la sala con tanti estranei e le emozioni più disparate sono venute fuori di fronte al grande schermo. La condivisione che hai nella sala, il tipo di condivisione emotiva che puoi avere con degli estranei davanti al grande schermo e al buio, è qualcosa di magico e speciale e irreplicabile, se non al cinema. Vero, assolutamente. E quindi è importante, torniamo. Io ad esempio, ho un ricordo, Il Signore Ianelli fu il mio primissimo ricordo, è incredibile anch'io, tanta nostalgia. Sei partito forte così. Sono partito fortissimo, beh anche Il Re Leone non scherza. Assolutamente. E bisogna tornare, bisogna tornare e quale occasione migliore se non il 13 di ottobre con Il Disprezzo di Godard. Far rivivere un film meraviglioso di un maestro enorme che ci ha lasciati da poco, è veramente l'occasione di tornare a emozionarsi insieme. Quindi alle 20 e 30 del 13 ottobre, mi raccomando, Cinema Partenio, Il Disprezzo di Godard. Grazie a tutti. Grazie a tutti.